L'acquisto di un terreno dove realizzare una casa di riposo, un terreno che necessitava di un cambio di destinazione d'uso, pratica per la quale un imprenditore si è sentito chiedere una tangente. Parte dalla denuncia di questo imprenditore l'inchiesta condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Venezia, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato agli arresti domiciliari gli ex sindaci di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo. Due imprenditori, Battista Camporese e Mauro Cazzaro, un tecnico del Comune Carlo Paiaro ed un architetto Marcello Carraro. Per tutti l'accusa di corruzione e reati contro la pubblica amministrazione. Stiamo parlando di una percentuale in relazione a poco più di 100.000 euro, una percentuale che più o meno dall'attività di indagine fino alla svolta era all'incirca del 10-15%. Abbiamo più elementi in relazione a più fatti di induzione in debita con tutti i reati conseguenti e cioè poi tutta l'attività in relazione ai bandi di concorso, l'abusinato di ufficio e quindi il sistema nel senso che sono più fatti relativi a richieste di denaro per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto prima, siamo in una fase di indagini preliminari e quindi se tratta di una valutazione fatta di gravità di indizi, ancora naturalmente non c'è un accertamento di responsabilità che si farà successivamente davanti al Tribunale. Gli accorgimenti che vengono utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno, infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questa somma non dovuta definita appunto un delta da corrispondere in nero, con l'espressione inglese black. Anche sull'acquisto di mascherine ci sarebbe stata una condotta dolosa. Quello è stato il momento iniziale che ci ha consentito di avviare sulla base di elementi solide tutta un'attività investigativa che poi tramite attività tecnica, intercettazioni e attività sul territorio che hanno quindi messo in atto i carabinieri del nucleo investigativo collaborati da quelli delle tenenze, delle stazioni, ha consentito poi di documentare ovviamente altri episodi dove il modus operandi era analogo, quindi richieste sempre sull'ordine del 10-15% di un extra da corrispondere in nero e incontri come sempre provviziati all'esterno degli uffici comunali. Quanto sono state determinanti in questa indagine? Le intercettazioni sono sempre determinanti nel senso che danno il là per l'attività di indagine, quindi senza l'intercettazione non c'è possibilità di fare null'altro di conferma. quello che non può essere corretto è l'uso delle mere intercettazioni a fini di prova. Questo è il dato che mi pare assolutamente corretto, ma io penso che così la gran parte delle attività di indagine venga svolto. Certo ci possono essere delle carenti professionalità che operano in maniera diversa. Io penso che il problema centrale sia questo.